Alessandro Coppola del Politecnico di Milano. Quale ruolo di social media per la città immateriale? Abbiamo sempre in mente che i social media non sono questa sorta di oggetto immateriale. Dentro i social media ci sono le persone, nelle città osserviamo per esempio come ci sia una fortissima dinamica diciamo online, offline, di determinati gruppi sociali, di determinate anche forme di autoorganizzazione dei cittadini, degli abitanti nelle città. Spesso quello che noi pensiamo siano per esempio gruppi Facebook o pagine di social network che rimangono appunto in una dimensione impalpabile di materialità, spesso sono legati invece a gruppi che definiremmo concreti, perché i social media non sono concreti, sono concreti anche loro, ma gruppi che per esempio hanno un riferimento spaziale molto preciso, che hanno dei quartieri precisi, delle aree precisi dove fanno determinate cose con determinate persone, con determinati gruppi sociali. Quindi diciamo forse non ha più tanto senso occuparci nelle città dei social media come se fossero una dimensione diversa da quella dell'organizzazione reale delle persone nello spazio. Dobbiamo imparare a trattarli come se fossero una dimensione essenziale di qualsiasi forma di attivismo, di autoorganizzazione, anche di mobilitazione nelle nostre città. Sono un elemento essenziale di qualsiasi gruppo che voglia fare qualcosa sul territorio.